Allora, fatte questa domanda, forse. Allora, Celentano l'ha visto? Marisa Laurito, adesso l'ho riconosciuta, dai. Celentano l'ha visto, non l'ha visto? Allora, Celentano noi non lo vediamo perché non prende da noi. Noi siamo in Sardegna, in Sardegna noi abbiamo la bandiera che sono quattro mori, lei c'è solo una mora che è Claudio. Allora, noi ieri il papa... Ma questo qui con voi è questo? E qua? No, ma lei mi risponda su Celentano. Su Celentano io non le posso rispondere perché mi deve soldi. Noi siamo qua per cercare di incassare, siamo come l'Equitalia. Quindi il clan Celentano ha dei soldi? Ma perché c'è la voce di Sandramino? Allora, andate... No, però io vado alla sera perché lei così non mi fa concludere niente. Parli con la mia assistente sociale, parli con la mia assistente sociale, parla con lei. Vai Clarissa! Ma lei l'ha visto Celentano, l'ha visto... Forza, fate passare uno di Abbaia a Sardegna.